In Repubblica Ceca il governo degli Stati Uniti sta tentando di firmare un accordo per l'installazione di quello che viene detto lo scudo spaziale, che poi si tratta di un radar che dovrebbe intercettare eventuali missili che arrivano o dall'Iran o dalla Corea del Nord, o da qualsiasi parte, per poi immediatamente avvisare la Polonia che fa partire dei contromissili. Il 90% della popolazione ceca non vuole questa situazione. La cosa ovviamente non è presa in considerazione, oramai da diverso tempo si stanno facendo proteste in tutta la Repubblica Ceca e oggi è nata una petizione online per richiedere un referendum. Gli Stati Uniti stanno procedendo con i loro accordi e crea una situazione di estrema crisi anche perché la Russia a sua volta sta prendendo questa come una provocazione. Noi vediamo questa situazione come estremamente drammatica. Volevamo sapere tu come la pensi. Siamo alle solite. Da una parte si dice sempre che il popolo è sovrano e che in una democrazia il popolo conta come l'idea, il pensiero e gli interessi del popolo sono determinanti. Si dice in poche parole che ministri, sottoministri, sottosegretari, presidenti sono a disposizione della popolazione. Non solo, ma la popolazione ha l'ultima parola in merito. Poi nella realtà ecco che si fa proprio il rovescio. Si sfotta addirittura una situazione che diventa retorica, diventa falsa e questo naturalmente poi distrugge il modo particolare l'attenzione che si possa avere per la politica. La cosa è incredibile, ma come? Tu decidi di accettare di nascosto in forma segreta un'apparecchiatura che permette di spiare, di vedere in profondità e soprattutto di entrare con la testa nei problemi privati di una nazione e metti in pericolo tutta questa nazione proprio perché ci può essere una risposta addirittura paradossale, isterica magari, oppure giusta, disperata. E il popolo che subisce poi questi guai, questi disastri, non ne deve sapere, o meglio, lo deve sapere, se riesce a saperlo, ma poi non può prendere posizione. In Italia si è arrivato a dire, nell'ultimo fatto di Napoli, che chi si mette ad agire e soprattutto propone un'altra posizione attraverso manifestazione finisce in carcere. Credo che sia un po' lo stesso problema di questo popolo. È inaccettabile. Il progetto dello scudo spaziano in Repubblica cieca è la punta dell'iceberg di un progetto maggiore di militarizzazione dell'Europa. Anche in Italia c'è il progetto di ampliare o creare nuove basi. Tu come vedi questa situazione in Europa che dall'epoca della guerra fredda non è mai stata così a rischio su loro di una possibile esplosione nucleare? Io ho partecipato molte volte alle manifestazioni, specialmente l'ultima, quella del Veneto, e poi nel tempo della guerra fredda ho partecipato a manifestazioni contro questo disprezzo per l'opinione pubblica. E oggi come oggi è ancora peggio perché per esempio una popolazione come quella di Vicentina ha agito proprio al 90%, si è visto anche nelle ultime elezioni, che addirittura proprio in conseguenza di questo atteggiamento la sinistra è uno dei pochi luoghi dove ha sorpassato la destra che era sempre vincente. Perché? Perché naturalmente si è fatto carico, cosciente e informata di quello che succede. Ma i nostri ministri, che poi adesso devono lasciare la poltrona ad altri, hanno impostato una situazione che è la pacchia delle difficoltà poi a ritornare completamente liberi e atti a disporre del proprio pensiero e delle proprie idee liberamente. In questo contesto, tu che sei una persona dall'ingegno importante, che si può fare praticamente? Noi crediamo che la risposta non violenta sia la migliore e stiamo cercando di in tutti i modi sviluppare la non violenza in tutti i campi perché poi in Europa oltre al problema democleare che è il più grande c'è il problema dell'immigrazione e delle risposte violente che sta andando a questo. Tu cosa pensi della non violenza? Dico che il problema principale, se si vuole naturalmente coinvolgere in modo ampio la partecipazione della gente, bisogna informare, bisogna proprio dare la possibilità, gli elementi fondamentali per avvenire a conoscenza della situazione. Il problema grave nostro è che si fa di tutto per disinformare, per imbesuire, per rendere vuoti assaliti da un eco infinito che non permette la ragione. Noi bisogna lottare soprattutto per riportare la ragione alla gente e questo non si può realizzare attraverso gesti di violenza. Stiamo in Repubblica cieca con atti di solidarietà continuando uno sciopero della fame da diversi giorni che terminerà con una richiesta al Parlamento europeo perché faccia informazione di questo. La RAI sembra che abbia messo il veto a diffondere questa notizia. Ti chiediamo la tua solidarietà a Ian Tamas, a tutta questa gente che sta scioperando e un saluto a queste persone. La forza che ha il mezzo televisivo è altissima, è anche quella della radio, però ci sono delle piccole radio che si muovono liberamente e che danno informazione. Attraverso il computer si riesce veramente a far partecipare, a informare e a dare soprattutto una scossa di indignazione che è essenziale nella prendere posizione. Io nel mio campo, cioè come attore, avendo a disposizione forse quasi soltanto il teatro, naturalmente lo uso fino in fondo. In ogni momento, in ogni situazione, adesso per esempio sto lavorando su questa idea del prossimo blackout orrendo che ci può colpire in questione del petrolio che verrà sicuramente a mancare velocemente e ho scritto un libro che fortunatamente viene letto da una grande quantità di persone e cerco di spingermi in tutti i modi. Attraverso questo libro, per esempio, informare su quelli che sono i progetti di un potere che non rispetta assolutamente la dignità della gente. Diamo una possibilità alla pace. Te la senti di fare questa dichiarazione? Di certo c'è il discorso di dare una possibilità alla pace e perché questo avvenga, ripeto sempre a tormentone, bisogna che si partecipi e che si dia ognuno, diventi il veicolo di informazione agli altri e soprattutto non accettare il vuoto e quella nonchalance ottusa che vedi in certe persone, le quali si annoiano addirittura all'idea di essere coinvolti e nell'idea di prendere posizione. In questo mondo chi non prende posizione e chi non partecipa è una povera persona e mi dà malinconia, ma ne incontro troppi. Ed è questo il nostro pericolo, trovare cervelli che sono vuoti di intensità e di ragione.